Vaccini e infrastrutture, i pilastri sui quali la Regione vuole fondare i presupposti per il rilancio economico dopo la pandemia. Ne ha parlato il Presidente Cirio nella tappa torinese del suo tour tra le province piemontesi sull'impiego dei fondi europei. Enrico Bona. Il via libera dell'EMA ad AstraZeneca irrompe durante la conferenza stampa sui fondi europei e fa tirare un sospiro di solliego al Presidente regionale. I benefici sono superiori ai rischi per cui si va avanti. Noi siamo già pronti, proprio in questo momento le nostre aziende sanitarie stanno già riconvocando le persone. Sanità ed economia devono marciare di pari passo, secondo Alberto Cirio, che a Torino ha concluso il suo tour tra le province piemontesi per definire, insieme alle categorie produttive e alle istituzioni locali, come andranno impiegate le risorse in arrivo da Bruxelles. Fondi che rappresentano un'occasione unica, ribadisce il Presidente della Camera di Commercio Gallina. Qua abbiamo bisogno di sostenere le nostre filiere produttive, per esempio, e ovviamente anche supportare tutti quelli che sono gli altri pilastri della nostra economia, dal turismo alla cultura, potenziando e cercando di accelerare i progetti che sono già in corso. Ricordo la città della Manifattura, la città dell'Aerospazio, la stessa città della scienza di Grugliasco. Per Confesercenti la competitività del territorio si rilancia anche attraverso azioni che facilitino l'accesso delle imprese alle materie prime e Confcommercio apprezza l'attenzione dedicata alle aziende del turismo. Sarà necessario sostenere le nostre imprese, sostenere i nostri territori perché questa desertificazione commerciale che noi vediamo è impressionante. De Biella, Cuneo, Novara, Vercelli. La richiesta più pressante, dice Cirio, è investire sulle infrastrutture. La Novara, Vercelli, il completamento di tutto ciò che riguarda la Pedemontana, il collegamento con la Svizzera, il completamento del Tenda e del collegamento della provincia di Cuneo con la Francia, da una parte e con la Liguria dall'altra. L'ultimo confronto, quello con le rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, è fissato per il 25 marzo.